Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Arevasta 1, fumata nera per la presidenza della conferenza dei sindaci il sindaco di Pergola Baldelli non possiamo accettare che chiudano i nostri ospedali Domani la giornata contro la violenza sulle donne a Fano sono 40, quelle che hanno subito violenze fisiche o psicologiche da mariti, conviventi o etni Luci, colori e feste dei mercatini di Natale e Monbaroccio si prepara a rinnovare il gemellaggio con la città di Bolzano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Partiamo, buonasera innanzitutto Partiamo dalla giornata contro la violenza sulle donne che si celebra domani mercoledì Avete sentito già nel sommario sono circa 40 le donne fanesi che nell'ultimo anno sono state vittime della violenza maschile un fenomeno che viene contrastato in qualche modo con una campagna di sensibilizzazione dall'amministrazione comunale con una serie di iniziative che sono in vista appunto per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne In tutto il mondo il 25 novembre si celebra una giornata simbolo in cui ci si confronta su quella che oggi è una vera e propria emergenza sociale Nella città di Fanno l'amministrazione comunale prosegue l'impegno contro questo fenomeno che non accenna diminuire sia a livello nazionale che locale Nelle Marche nell'ultimo anno sono state oltre 400 le donne che hanno denunciato quasi 900 violenze per la maggior parte compiute all'interno di pareti domestiche ad abusare di loro conviventi, mariti o ex mariti si tratta di uomini in particolare di età compresa fra i 34 e i 53 anni di nazionalità italiana, di istruzione media o superiore e occupati Nel centro antiviolenza di Pesaro sono state assistite 110 donne un terzo delle quali residenti nella città della fortuna Per ampliare la consapevolezza su questo tema e con l'obiettivo di rieducare le nuove generazioni e la cultura del rispetto l'assessorato alle pari opportunità del comune di Fanno e la conferenza permanente delle donne elette hanno organizzato tre iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Ci sarà la mattina del 25 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna un appuntamento spettacolo rivolto agli studenti con un momento di informazione e di capacitazione rispetto alla situazione nazionale e locale e soprattutto un momento di spettacolo che si intitola Non ci resta che ridere amaramente tratto da un lavoro di Serena Dandini riadattato dalla compagnia dei fani giulesi in collaborazione con la provincia di Pesaro e il centro antiviolenza Nella stessa giornata alle ore 18.30 si svolgerà un consiglio comunale monotematico aperto alla cittadinanza in cui è stato inserito un ordine del giorno che impegna l'amministrazione e la regione Marche a tenere un'attenzione alta sul problema e allo stesso tempo continuare a finanziare i centri antiviolenza che rischiano di essere chiusi Inviteremo in questo consiglio comunale diverse rappresentanze e testimonianze dell'associazionismo locale e quindi chi lavora dal punto di vista legale della tutela legale sia chi lavora dal punto di vista della tutela lavorativa delle donne ma anche nel problema della tratta e della prostituzione e anche dal punto di vista proprio della cura e presi in carico del centro antiviolenza Il terzo appuntamento è previsto invece per la serata del 26 novembre al Cinema Politeama di Fano dove alle 21.15 verrà proiettato un documentario dal titolo 1,2 di Silvia Ferrari ad un costo di 3 euro seguirà un dibattito sul tema dell'emarginazione femminile negli ambienti di lavoro e sul mobbing in merito alla maternità e alla scarsa natalità in Italia Questa è un'iniziativa fatta in collaborazione con la commissione Pari Opportunità della regione Marche e sarà presente anche la consigliera delle Pari Opportunità Paola Petrucci Invitiamo tutte le donne e gli uomini ad essere presenti Il Consiglio regionale delle Marche ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del terrorismo lo ha fatto in apertura della prima seduta dopo gli attentati di Parigi Salta per mancanza del numero legale l'elezione del Presidente della Conferenza dei Sindaci di Area Vasta La conferenza dei Sindaci di Area Vasta 1 chiede al Presidente della regione Marche Luca Ceriscioli di ridiscutere il piano strategico di riorganizzazione sanitaria L'Assemblea che si è riunita oggi a Urbino non ha eletto il Presidente della Conferenza perché non è stato raggiunto il numero legale ma i 27 sindaci presenti alla seduta hanno aperto un'ampia discussione sulla sanità Tutte le scelte devono essere condivise da tutti i sindaci Il tema del nuovo ospedale, dell'elezione sanitaria non può riguardare solo due città ma deve riguardare tutto il territorio provinciale Per quello che riguarda Fano ci sono troppi aspetti che non ci convincono e quindi noi vogliamo entrare nel merito della questione Il Sindaco di Urbino Maurizio Gambini Presidente protempore della conferenza ha avuto il mandato di esporre la posizione dei sindaci al Presidente Ceriscioli e di invitarlo come Assessore regionale alla sanità alla prossima riunione prevista per la prima settimana di dicembre Netta su questo tema è la posizione del primo cittadino di Pergola Francesco Baldelli sempre in prima linea nella difesa della sanità e dell'assistenza ospedaliera dell'intera provincia Baldelli non accetta il depotenziamento e la chiusura degli ospedali Netta la posizione perché qui stanno distruggendo con le linee che oggi dovevamo discutere in conferenza di sindaci che poi ha avuto una fumata nera stanno distruggendo completamente con gli obiettivi che si è fissata la regione per il 2015 la sanità non di Pergola o dell'entroterra stanno distruggendo la sanità della nostra provincia in maniera particolare con la bufala dell'ospedale unico stanno distraendo le nostre comunità per distruggere l'ospedale di Fano porre i presupposti per il depotenziamento dell'ospedale di Urbino e chiudere l'unico ospedale dell'entroterra che è rimasto quello di Pergola dopo aver chiuso Fossombrone, Sassocorvaro e Cagli un no secco all'ospedale unico che ha chiuso già gli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro una riproposizione di un piano sanitario cancellando l'esistenza l'esistente che non solo riapre gli ospedali chiusi ma che potenzi anche gli esistenti affinché Pergola, Fossombrone, Cagli, Sassocorvaro possano fare rete insieme a Durbino, Fano e non distruggendo anche la sanità pesarese perché se lasciamo un solo ospedale creeremo un imbuto e quell'imbuto verso l'ospedale di Pesaro non sarà più nemmeno sufficiente per garantire l'assistenza ospedaliera ai pesaresi ovviamente ricordiamo che Fano ha un ruolo cardine in questa nuova razionalizzazione o valorizzazione degli ospedali sul territorio dovrà essere un punto di riferimento Una breve di cronaca nella stazione di Rimini gli agenti degli uomini della Guardia di Finanza hanno fermato e segnalato alla Prefettura un 22enne italiano residente a Fano in possesso di 2 grammi di hashish per uso personale Per prevenire il tumore al seno sarà possibile fare visite gratuite in tre giornate all'ospedale Santa Croce di Fano Come ogni altro organo anche il seno può ammalarsi e ad oggi la diagnosi percoce è il metodo più efficace per salvaguardare la propria salute per questo l'associazione Fior di Loto donne operate al seno e non promuove tre giornate di prevenzione il 25 novembre, mercoledì 2 e 9 dicembre dagli ore 14 alle ore 16 sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica gratuita all'ospedale Santa Croce di Fano nel reparto di Oncologia Blocco B1 l'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'equipe medica del reparto di cui è direttore Rodolfo Mattioli ed è dedicata a tutte le donne di età inferiore ai 50 anni in particolare non soggette a screening la visita senologica consiste in un esame completo del tutto in dolore senza l'impiego di strumentazioni eseguito da un medico senologo e ha l'obiettivo di individuare o escludere la presenza di una patologia per prenotare è possibile contattare questi numeri di telefono negli orari indicati parliamo adesso del bienio dell'agrario Cecchi a Fano perché dopo la proposta lanciata dall'istituto Battisti di trasferire le classi nel loro istituto oggi è voluto intervenire l'assessore competente del comune di Fano Samuele Mascarini per non perdere l'autonomia i docenti dell'istituto tecnico commerciale Battisti di Fano hanno lanciato l'idea di trasferire il bienio dell'agrario Cecchi di Pesaro nella sede succursale nel quartiere di San Lazzaro un'operazione che a differenza del sito del Codma di Rosciano permetterebbe alle istituzioni di risparmiare visto che nella loro struttura hanno sia classi che laboratori disponibili ma anche i docenti stessi il piano studi di entrambi i bienni è composto infatti da materie per la quasi totalità uguali questa era la richiesta fatta a nome dei professori dal vicepreside del Battisti Pierpaolo Giorgi abbiamo fatto una proposta al sindaco in primavera non ci è arrivata risposta abbiamo avuto un altro incontro in ottobre però la risposta sembra sempre che il Codma ormai è andato troppo avanti ma non si capisce cosa vuol dire questo troppo avanti noi vorremmo solo che la collettività capisse che qui ci sarebbero le stesse opportunità a costo zero a questa richiesta ha risposto l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin il quale sottolinea che in questo tema il potere decisionale non appartiene al comune di Fano bensì alla provincia di Pesaro e Urubino la competenza per tutto il piano di riorganizzazione scolastica aspetta infatti all'ente provinciale di cui fa parte come consigliere anche il sindaco di Fano Massimo Seri l'ipotesi diciamo di ospitare da un punto di vista organizzativo e logistico le classi della sede staccata dell'istituto d'agrario prossimo anno scolastico è un'ipotesi sulla quale si può credo ragionare laicamente e credo lo farà anche la provincia di Pesaro Urbino sicuramente bisogna comunque ricordare che il percorso che da tanto tempo si è attivato e che ha visto tutti gli enti interessati d'accordo è quello comunque di attivare sul territorio del comune di Fano una sede staccata dell'istituto Cecchi e credo che questo sia un punto fermo poi alcune soluzioni di prospettiva anche da un punto di vista organizzativo e logistico io credo che possono essere prese tranquillamente in considerazione la fondazione cassa di risparmio di Fano ha donato altri 13 defibrillatori ad impianti sportivi del nostro territorio sono di ultima generazione semplici da utilizzare i defibrillatori donati dalla fondazione cassa di risparmio di Fano che continua ad investire in queste apparecchiature salvavita nella sala di rappresentanza il presidente Fabio Tombari ne ha consegnati altri 13 ad altrettanti impianti sportivi con questi ultimi salgono a quota 65 le strumentazioni donate nel territorio 7 al comune di Fano 5 al comune di Mondolfo e 1 al comune di Montemaggiore ovviamente non andranno ai comuni ma andranno a società sportive ad associazioni che metteranno a disposizione queste apparecchiature degli atleti e delle persone io spero e mi auguro che non vengano mai usati però in caso di necessità è bene che ogni impianto sportivo sia dotato e ogni scuola sia dotata di queste strutture progetti invece per il prossimo anno? sì io penso che il prossimo anno dovremo donare doneremo altre apparecchiature io mi auguro che con il nostro aiuto e con l'aiuto di altre associazioni degli enti pubblici comuni eccetera ogni scuola ogni impianto sportivo sia dotato di queste apparecchiature noi anche per il prossimo anno ci impegniamo a donarne altre l'uso del defibrillatore è estremamente sicuro e dopo una breve istruzione potrà essere utilizzato da tutti anche recenti casi di cronaca ci hanno riproposto cos'è l'arresto cardiaco un marinaio giovane di 50 anni gli ultimi casi un operaio di 45 anni sul posto di lavoro in questi casi ecco l'uso del defibrillatore è veramente uno strumento prezioso può salvare una vita e chiunque può farlo con la donazione di oggi si allarga la copertura degli impianti sportivi il decreto Balduzzi prevede l'obbligo a partire da gennaio per gli impianti sportivi quindi grazie alla sensibilità della fondazione stiamo procedendo con questa dotazione Eman Baroccia è tutto pronto per i mercatini di Natale spettacoli concerti presepi mercatini dell'artigianato dei prodotti dell'enogastronomia sono solo alcune delle iniziative messe in campo per E Natale Mon Baroccia in festa l'evento che il 28 e 29 novembre dal 5 all'8 dicembre torna nella cornice del castello medievale grazie al lavoro svolto da 150 volontari e dall'ufficio tecnico del comune la manifestazione conferma anche quest'anno il gemellaggio con Bolzano durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi in provincia è intervenuta in collegamento telefonico la direttrice dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano Roberta Agosti che ha augurato agli organizzatori di superare gli ottimi risultati ottenuti nel 2014 la città del Trentino Alto Adige ha donato un albero di Natale che verrà acceso sabato 29 novembre alle ore 16 e 30 in piazza Barocci ma le novità non sono finite qui ad annunciarle il presidente della Proloco Damiano Bartocetti è in arrivo dall'azienda TUN di Bolzano un Babbo Natale da un metro e novanta per un e sessanta dove i bambini potranno farsi delle fotografie potranno farsi dei selfie e sarà posizionato all'ingresso di Monbaroccio questa è una testimonianza dell'importanza dei nostri mercatini della provincia di Piesurbino soprattutto quelli di Monbaroccio che ha riservato la TUN perché mandandoci proprio un Babbo Natale vuol dire che la TUN questa azienda crede moltissimo a questo evento al Natale che non ti aspetti della provincia di Piesurbino ma in particolar modo della nostra Proloco della nostra comunità di Monbaroccio dall'estate scorsa Bartocetti e il collega Fanese Etienne Lucarelli si stanno adoperando per coinvolgere sempre più Proloco e i comuni negli eventi legati al Natale hanno infatti appoggiato fin da subito il brand della provincia Il Natale che non ti aspetti perché grazie ad una sinergia tra le diverse realtà è stato possibile fare una grande promozione a livello nazionale è stata così ampliata l'offerta turistica per poter attrarre un maggior numero di visitatori da ogni parte d'Italia sulle tante iniziative dell'evento si è soffermata invece la vicepresidente della Proloco Ilaria Renzoni quest'anno il programma è veramente ricco e ci saranno nuove location quindi nuovi ambienti a tema che saranno visibili all'interno del paese da partire dal nuovo palazzo del monte appena restaurato dove ci sarà un'atmosfera natalizia quasi reale insomma per andare alla casa delle lanterne e a ambientazioni lungo tutto il paese sarà possibile passeggiare lungo la via degli alberi immergersi nel paesaggio invernale o visitare i presepi del mondo e quello del rinascimento nei vicoli del paese non mancheranno i babbi natale del Vespa Club di Fano e tra le attrazioni da non perdere la suggestiva nevicata artificiale prima di salutarvi guardiamo insieme queste fotografie che sono state pubblicate sulla pagina facebook di Regresso Arti l'associazione che si batte per città pulite senza scritte si tratta di fotografie scattate nel sottopasso del Lido che si trova in viale Cairoli a Fano oggi l'associazione appunto si è dedicata alla pulizia di questo di questo sottopasso speriamo che insomma rimanga pulito per un po' ed è tutto grazie per averci seguito arrivederci